Nina Agdal, ex di DiCaprio, posa per Sports Illustrated Non è, questa, la prima volta in cui Nina Agdal posa in bikini. Né tanto meno quello su Sports Illustrated è un debutto. Perché la top model danese, a soli 25 anni, ha alle spalle una carriera di tutto rispetto, che l'ha vista contesa dalle maggiori case di moda per le loro sfilate in passerella e per le campagne pubblicitarie. Del resto, la bellezza di Nina è mozzafiato. E l'ultimo servizio per l'illustre rivista ne è la conferma. Una modella dal famoso ex. Nata in Danimarca il 26 marzo 1992, Nina Agdal è una biondissima modella che come tante altre biondissime modelle è stata per qualche mese al fianco di Leonardo DiCaprio. In questi giorni, mentre l'attore sta vivendo il suo ritorno di fiamma con Tori Garn, per lei è invece il momento dell'ennesimo successo professionale. La top model, infatti, sarà ancora una volta protagonista dell'iconica rivista Sports Illustrated, con uno shooting realizzato per il supplemento Swimsuitissue che la vede in bichini, ritratta tra le onde del Messico dal fotografo-artista Ruven Afanodor. La sua carriera, Nina l'ha cominciata sette anni fa, o meglio, è stato quello il momento della sua consacrazione, avvenuta con la cover dell'edizione danese di Bazaar. Solo due anni più tardi, la Agdal fa la sua prima apparizione su Sports Illustrated e, i suoi scatti in bichini e quel corpo splendido, le fanno guardare il titolo di miglior debuttante dell'anno. Nel 2013, è la modella più sexy del mondo. E il suo lavoro si moltiplica. Posa per le copertine delle più importanti riviste, gira il mondo sfilando per i maggiori brand di moda. Entra nella scuderia di Victoria's Secret e si fidanza con Leonardo Di Caprio. I due, lo scorso maggio, hanno rotto dopo un anno di relazione. E la modella, sussurra il gossip, si sarebbe avvicinata a Jack Brinkley-Cock, figlio della supertop statunitense Shristi e Brinkley, anche lei vecchia gloria di Sports Illustrated negli anni 70 e 80. Paparazzati a New York intenti a fare jogging insieme, e poi a cena, i due non sono in realtà ancora usciti allo scoperto, per ufficiare la loro relazione. L'amore per il suo corpo. Seppur splendida, Nina Agdala è stata negli anni soggetta a spiacevoli pressioni da parte dell'industria della moda. Incredibilmente, in alcune occasioni le è persino stato chiesto di dimagrire. C'è una bella differenza, tra dimagrire e rassodarsi. Non bisognerebbe mai dire ad una ragazza di perdere peso, perché è una cosa fastidiosa. C'è una bella differenza. C'è una foto che, sul suo profilo Instagram, la ritrauggono senza veli. Distesa sul letto, completamente nuda e col commento waiting for pizza, la Agdala è meravigliosa. I suoi quasi due milioni di followers approvano. Così come approvano le sue docce bollenti, a favore di obiettivo, ma anche i momenti di tenerezza col cagnolino da poco arrivato nella sua vita. Un cucciolo che la segue ovunque, spilate di moda comprese.